Avete cambiato molto, avete migliorato, almeno dicono così, gli esperti, molto. Tutto questo è costato fatica? Tanto sforzo, sì, abbiamo fatto un grande lavoro, alla fine di comunque un triennio importante, quindi ripartiamo con una grande esperienza rispetto a quando abbiamo iniziato, quindi siamo sicuramente convinti di aver fatto, diciamo di aver messo a frutto l'esperienza che abbiamo costruito nei tre anni precedenti. Abbiamo fatto una squadra dal nostro punto di vista che è sicuramente nella condizione migliore per fare questa categoria nel miglior modo possibile, poi la Serie B, lo sappiamo, non è così scontata, è così facile da disputare, quindi alla fine sarà il campo che dirà cosa abbiamo fatto. Poi tra l'altro un allenatore che viene dall'Inghilterra, dall'America, dove lo sport femminile, specialmente quello del calcio, ha anni di precedenza su quello italiano e dove conta molto anche la forza fisica, l'atletica. Sicuramente Mr. Mike ha un'esperienza, come ho già detto, internazionale, quindi possiamo comparare il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto, con un'esperienza che va al di là di quella italiana, proprio perché in Italia dobbiamo ancora fare dei passi importanti nel calcio femminile, e siamo convinti che la sua esperienza applicata, con una squadra costruita proprio per questo, può portare dei buoni risultati. Tra l'altro avete preso anche giocatori che provengono dalla Serie A, tipo una dal Sassuolo. Sì, abbiamo diverse figure interessanti, abbiamo rafforzato la squadra proprio per avvicinare quella qualità che ci può permettere di fare la differenza in questo campionato, Sì, abbiamo fatto un ultimo acquisto interessante, però lo dobbiamo vedere applicato nell'ambito di una squadra. Siamo convinti che, oltre alle qualità e alle esperienze precedenti, le ragazze hanno anche l'alchimia giusta per far funzionare bene questa squadra. All'interno noi sappiamo che il presidente Anselmi ha sempre dato molto ascolto anche all'allenatore, è stato anche in questo caso dato ascolto all'allenatore. Allora, diciamo che l'allenatore è arrivato che già gran parte del lavoro era stato già pensato, con lui abbiamo ancora messo a punto alcuni dettagli, stiamo continuando a mettere a punto alcuni dettagli, forse manca anche qualche cosa rispetto alla sua visione, però sicuramente riusciremo ad allineare il tutto prima dell'inizio del campionato. La speranza qual è? Un gradino sopra quello che è stato fatto l'anno scorso, oppure come alcune delle ragazze che sono convinte, lotteremo per vincere? Lotteremo per vincere credo che intendano le partite, le partite si iniziano per essere vinte, non parliamo di campionato perché per noi quest'anno è il primo anno dove abbiamo costruito una squadra per questa categoria, quindi potrebbe essere veramente l'anno zero di questa categoria, siamo convinti che vogliamo comunque scalare la classifica rispetto a quello che è stato il risultato di anno scorso, quindi vogliamo fare meglio, sicuramente la parte sinistra della classifica, questo è un po' l'obiettivo che tutti si pongono, specialmente coloro che sono nella fase di ricostruzione come è stata la nostra.